ciao quest'anno stiamo partecipando al partenariato con una scuola francese abbiamo realizzato dei video presentazione un'attività che si è rivelata davvero divertentissima e che abbiamo svolto con molto entusiasmo in poco meno di un minuto ci siamo raccontati abbiamo condiviso le nostre passioni nostri hobby ma soprattutto gli ambienti che ci circondano quotidianamente i ragazzi francesi quindi si sono presentati in italiano e allo stesso modo noi abbiamo fatto in francese iscriviti al canale grazie a tutti ciao